Ed eccoci nuovamente qui ragazzi per la quinta settimana di novembre con le sfide settimanali. Allora andiamo a vedere cosa abbiamo come ricompense questa volta. Abbiamo un biglietto 6 stelle party, biglietto 150.000 crediti e biglietto 6 stelle auto. Di sfide cosa abbiamo? Sunday Cup, quindi Lago Maggiore, Coppa Amatori. 4WD Challenger da 600pp, Trial Monty, Porsche Cup a Laguna Seca. Poi Special Event abbiamo un MX-5, quindi un trofeo da fare con l'MX-5. Fuji International Speedway e poi World Touring Car da 800pp a Daytona. Wow, interessante questo. Allora, tra l'altro abbiamo Gran Turismo con la home vestita a festa, di grande festa. Guardate, che appaiono i fuochi d'artificio, le luci colorate. Si sta preparando per il grande evento. Allora, fate vedere i fuochi, eccoli che partono i fuochi d'artificio. Bene, siamo quasi pronti per il grande evento. Allora, andiamo a fare, quindi come prima sfida, quella più semplice. Partiamo dalla più semplice, Sunday Cup. Andiamo a vedere con che macchina possiamo farla. Allora, abbiamo limiti, no, ottimali, 380pp, dai, cambiamo, vediamo cosa usare. Qualcosa che non abbiamo mai utilizzato. Allora, cosa abbiamo, e se usiamo, è troppo, la DeLorean nel ritorno a futuro. Troppi pipì, dai. Usiamo questa. L'avevo preparata per la sfida di queste auto, ma non avevo superato i pipì perché gli avevo svappato il motore e non potevo più utilizzarla. Però mi ero messo a fare tutta la livrea e quant'altro. visto che l'avevo fatto, è della Honda Spoon. E niente, usiamo questa, dai, così, un po' piccolina. Riusciamo, anche se sono molti pipì rispetto ai 380 ottimali, però, perlomeno, utilizzeremo la macchina, dai. Lago maggiore. Mi sa che la versione è senza salto. E andiamo. La nostra piccola K-Car. Ecco la Mazda Demio. Sarà la Mazda 2. Ma gli dà troppa potenza. Possiamo fare un po' lo scemino, eh. Andiamo a Zwift. Rius. Allora, ecco l'altra, l'altra Honda Beat, quella nostra, il Suzuki Jimmy. Basta, è già passato di tutti. Spoon! Spons! Quella! Guarda, poi devo andare dietro. Siamo fatti questa baciata al muro. Ho i rapporti un po' troppo corti, non so. Subito in quinta. Stavo cercando di fare tutto di controsterzo, senza frenare. Un po' come se eravamo se fossimo stati sullo sterrato. Non è neanche tutta elaborata questa macchina. Sì, c'è lo scarico normale. E niente, questa è la gara in scioltezza. Andiamo a fare il consueto testa-coda sul traguardo. Carina però, dai. Questa colorazione. Andiamo a vedere i particolari. Poi ci ha dato pure gara pulita, nonostante che siamo al di contro il muro. 7500, ragazzi. Però, siamo presi 6 sterli. Parti i motori, vabbè. Guardiamo un po' però, la macchina. All'interno. Dell'auto. I tubolari. Non si vede niente, ragazzi. Noi siamo uguali. Noi siamo uguali. Giapan. Fufu, che bovata, ragazzi. La livra l'avevo presa a mezza fatta. E poi ci ha aggiunto un bel po' di particolari. Senti come acclama il pubblico, questa bellissima gara. Volevo iniziare la fada, ma non ce l'ho fatta. La cosa che non ho vista è se potevo colorare la cappota. Dovevo provare a fare altro. Eh, vabbè. Niente, ragazzi. Al prossimo video, dai. Ci si vede al prossimo. Grazie mille a tutti. Ciao, ciao. 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 Ciao.